L'ho letto anche genuino, sincero, cioè cose del genere. Cioè, sarebbe stato l'unico... è l'unico modo per portare Benny... lui non ci avrebbe dato un libro, anche sicuramente. Cioè, nel senso che c'è un... Tutte le trasposizioni sono dei tradimenti rispetto al testo letterale. Noi abbiamo cercato di tradire il meno possibile stando fedeli a quelle che sono le caratteristiche del libro stesso. Cioè, nel senso che Benny non... è un po' il simenon della scrittura comica. Cioè, toglie invece che mettere. Cioè, non accentua mai... Io faccio sempre un esempio. L'Elvira, cioè che è la prostituta del paese, la fruttana, come giustamente si diceva una volta, adesso sono altri termini. Cioè, è una che gira sempre col bottarello in mano. L'unica battuta, la dice Antonio Catania, cattivo Muzzi, dice, ah, guarda l'Elvira, si tiene sempre in allenamento. Altri ci avrebbero fatto sette minuti su quel gioco lì, o inquadrature particolari, tutti. Invece noi buttiamo via. Perché è giusto così? Perché è giusto dire che anche il bar è volgare, c'è delle volgarità dentro, ma che però possono passare... Però sono molto curioso di quei termini. Benny è stato contento, l'hai detto? Sì, Benny ha detto, a proposito delle volgarità, una cosa... sono abbastanza... siamo tutti rimasti molto contenti. che ha detto, guarda, il film mi è piaciuto, soprattutto perché non è mai volgare. E quindi, credo che ci siamo.